Nel Vangelo c'è un episodio, quello delle nozze di Cana, che gli ultimi approfondimenti biblici ci obbligano decisamente a rivedere, soprattutto per ciò che riguarda il ruolo di Maria. Chissà quante volte ci siamo commossi pure noi dinanzi alla sensibilità della madre di Gesù, che con finezza tutta femminile ha intuito il disappunto degli sposi a corto divino e ha forzato la mano del figlio, troncando sul nascere l'evidente imbarazzo che ormai serpeggiava dietro le quinte. Pare certo, però, che l'intenzione dell'Evangelista non fosse tanto quella di mettere in evidenza la sollecitudine di Maria a favore degli uomini o la potenza della sua intercessione presso il figlio, quanto quella di presentarla come colei che percepisce a volo il dissolversi del piccolo mondo antico e anticipando l'ora di Gesù, introduce sul banchetto della storia non solo i boccali della festa, ma anche i primi fermenti della novità. Festa e novità, quindi, irrompono nella sala, suo espresso richiamo di lei. A darcene, conferma, c'è nella pagina di Giovanni un particolare tutt'altro che accidentale che, anzi, a ben considerarlo, esplode con la prepotenza di un invadente protagonismo. È costituito dalle sei aree di pietra per la purificazione dei giudei, oscene nella loro immobilità, ingombranti nella loro ampiezza prevaricatrice, gelide come cadaveri perché di pietra, inutili perché vuote agli effetti di una purificazione che sono ormai capaci di dare. Sei, e non sette, che è il numero perfetto, simbolo malinconico, quindi di ciò che non giungerà mai a completezza, che non toccherà più i confini della maturazione, che resterà sempre al di sotto di ogni legittima attesa e di ogni bisogno del cuore. Ebbene, di fronte a questo scenario di paresi reversibile, rappresentato da alleggiare di pietra come le tavole di Mosè, Maria non solo avverte la vecchia alleanza e ormai logora, e che l'antica economia di salvezza fondata sulle prescrizioni della legge ha chiuso da tempo la sua contabilità, ma sollecita coraggiosamente la transizione. Vede raggiunti livelli di guardia da un mondo che boccheggia nella tristezza e invoca da suo figlio non tanto uno strappo alla legge della natura, quanto uno strappo alla natura della legge. Questa non contiene ormai nulla, non è in grado di purificare nessuno, e non rallegra più il cuore dell'uomo. Interviene perciò d'anticipo e chiede a Gesù un acconto sul vino della nuova alleanza, che lei presente sgorgerà inesauribile nell'ora della croce. Non hanno più vino, non è il tratto di una provvidenziale gentilezza che sopraggiunge a evitare la mortificazione di due sposi, è un gridò d'allarme che sopraggiunge per evitare la morte del mondo. Santa Maria, donna del vino nuovo, quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce e la felicità si spegne sul volto dei commensali. È il vino della festa che viene meno. Sulla tavola non ci manca nulla, ma senza il succo della vite abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano. Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza, ma con l'ingordiggia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame. Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori, ma anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci. Tu lo sai bene, da che cosa deriva questa inflazione di tedio? Le scorte di senso si sono esaurite, non abbiamo più vino. Gli odori a sprigni del mosto non ci deliziano l'anima da tempo. Le vecchie cantine non fermentano più e le botti vuote danno solo spurghi d'aceto. Muoviti allora a compassione di noi e ridonaci il gusto delle cose. Solo così le giare della nostra esistenza si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi. E l'ebbrezza di vivere e di far vivere ci farà finalmente provare le vertigini. Santa Maria, donna del vino nuovo, fautrice così impaziente del cambio che a Cana di Galilea provocasti anzitempo il più grandioso esodo della storia, obbligando Gesù alle prove generali della Pasqua definitiva. Tu resti per noi il simbolo imperituro della giovinezza, perché è proprio dei giovani percepire l'usura dei moduli che non reggono più e invocare rinascite che si ottengono solo con radicali rovesciamenti di fronte, e non con impercettibili restauri di laboratorio. Liberaci, ti preghiamo, dagli appagamenti facili, dalle piccole conversioni sotto costo, dai rattoppi di comodo. Preservaci dalle false sicurezze del recinto, dalla noia della ripetività rituale, dalla fiducia incondizionata negli schemi, dall'uso idolatrico della tradizione. Quando ci coglie il sospetto che il vino nuovo rompa gli otri vecchi, donaci la vedutezza di sostituire i contenitori. Quando prevale in noi il fascino dello status quo, rendici tanto risoluti da abbandonare gli accampamenti. Se accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro cuore il coraggio dei passi, e facci comprendere che la chiusura alla novità dello spirito e l'adattamento agli orizzonti dei bassi profili ci offrono solo la malinconia della senescenza precoce. Santa Maria, donna del vino nuovo, noi ti ringraziamo infine perché con le parole fate tutto quello che egli vi dirà. Tu ci svegli il misterioso segreto della giovinezza e ci affidi il potere di svegliare l'aurora anche nel cuore della notte.